Allora ragazzi, adesso vediamo un esempio di contratto di lavoro. Analizziamo alcune parti. Allora, qui in alto a sinistra c'è scritto datore di lavoro. Chi è il datore di lavoro? È il capo, quindi è la persona dove lavoriamo, però si dice datore di lavoro. Poi c'è la via, quindi l'indirizzo del datore di lavoro, la città, la partita IVA. La partita IVA è un codice che hanno tutte le persone che appunto hanno un'azienda. E poi c'è la data, quindi questa è la data che può essere scritta o sopra o anche sotto. È la data in cui è stato scritto questo contratto di lavoro. Invece qui a destra abbiamo i nostri dati, quindi i dati del lavoratore, della persona che deve iniziare a lavorare presso questa azienda. Quindi nome e cognome, indirizzo e codice fiscale del lavoratore. Qui c'è scritto lettera di assunzione a tempo indeterminato. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo la data di inizio, quindi qui c'è scritto decorrenza dal, quindi ci sarà la data di inizio del lavoro, e però non è stabilita una data di fine. Quindi il tempo indeterminato significa che inizia e che continua per molto tempo, non abbiamo una scadenza. Poi c'è scritto qualifica, che significa? Significa che lavoro vai a fare in questa azienda. In questo caso c'è scritto operaio o impiegato. Poi c'è scritto mansioni, quindi in che cosa consiste il tuo lavoro. Per esempio, se nella qualifica c'è scritto agricoltore, sicuramente nelle mansioni ci sarà scritto il fatto di piantare gli ortaggi, di raccogliere gli ortaggi, quindi proprio la descrizione del lavoro vero e proprio. Poi c'è scritta la durata, che qui ripete che il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, e poi il luogo, quindi dove si svolgerà questo lavoro. Quindi, per esempio, qui dice la sua attività lavorativa verrà svolta presso la sede o il cantiere di, e quindi magari la città e l'indirizzo. Infine, dove c'è scritto CCNL, questo fa riferimento, questo significa contratto collettivo nazionale di lavoro, quindi fa riferimento a una tipologia di contratto a livello nazionale. Quindi questo è un esempio di contratto di lavoro, quindi di assunzione. Quando una persona viene assunta, significa che viene presa a lavorare. E ovviamente questo deve essere poi alla fine firmato sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Quindi tutte e due le persone devono firmare il contratto di lavoro. Grazie a tutti.